Buonasera, buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Topic. Oggi voglio attenzionare un problema che sta diventando veramente assurdo da poter tenere in considerazione ed è quello legato ai giovani che non hanno più in passato, si diceva, nel regno per dirla alla siciliana. Il fatto che ci siano ragazzi che si riuniscono in gruppi e che poi malmenino anche coetanei creando veramente problemi che sono problemi importanti è diventato veramente paradossale. E allora voglio richiamare a quanto accaduto nei giorni scorsi alla Villa Bellini che è diventata la Villa Bellini uno scenario di episodi di microcriminalità perché chi fa questo è da considerare un criminale perché non si può picchiare così qualche d'uno che passeggia o sta all'interno della villa. Vedete, è ancora viva in tutti noi la questione legata al famoso stupro purtroppo di quella ragazza di 13 anni a opera di diversi extracomunitari e addestato scalpore anche a livello nazionale un po' perché la Villa Bellini è diventata una sorta di terra di conquista di piccoli cervelli e questi hanno dimostrato di essere piccoli cervelli perché è successo che un gruppo di ragazzi all'interno della Villa Bellini, lo ricordiamo polmone verde della città di Catania hanno aggredito una coppia di 14 anni, un ragazzo e una ragazza schiaffi, pugni, calci e questi ragazzi ovviamente particolarmente impauriti sono riusciti a raggiungere una pattuglia della polizia che transitava da quelle parti e i poliziotti sono subito intervenuti per cercare questi soggetti che hanno commesso questo tipo di violenza e non sono stati ancora identificati purtroppo i ragazzi hanno aspettato i genitori all'interno della Villa Bellini i genitori che hanno assistito hanno preso contezza fortunatamente che le lesioni per i due ragazzi erano lievi però lo spavento, la paura, poi ricordando a quanto è successo probabilmente nei mesi scorsi questo sicuramente deve essere attenzionato cosa succede? Ora vogliamo darci una mossa? vogliamo realmente risolvere il problema? è una domanda che io pongo a chi è preposto al controllo del territorio possiamo lasciare scorazzare per Catania giovani ribelli? allora il messaggio io non lo voglio rivolgere ai ragazzi perché quei ragazzi sono inconsapevoli probabilmente delle proprie azioni lo rivolgo ai genitori di quei ragazzi i genitori devono sapere che stanno crescendo delle piccole belve perché chi fa questo è da considerare una piccola belva allora il problema fondamentale è che anche se i giovani sono dei minorenni a pagare nelle conseguenze siete voi genitori, papà, mamma siete voi che dovete cercare di monitorare ed evitare che i vostri figli escano da casa da angioletti e diventino dei diavoli appena escono a contatto anche con altra gioventù ecco questo sta accadendo sempre più spesso a Catania perché la viettenea e le zone limitrofe sono presidiate da questi ragazzetti che fanno i bulli perché sono in compagnia perché sono in gruppi se la prendono anche magari con anziani non solo con giovani che incontrano magari da soli insomma questo tipo di schizofrenia giovanile bisogna cercare di limitarla e allora le scuole, le famiglie, le istituzioni devono farsi una ragione bisogna fare qualche cosa perché non si può pensare sempre di arrivare magari a che ci scappi anche il morto perché poi può anche succedere questo attenzione non è che si possono spegnere gli echi di questa idiozia che viene applicata da questo gruppo di scalmanati e allora mi piace sottolineare che ci sono le istituzioni politiche che poi cercano di porre delle pezze però vedete io ho deciso di dedicare questo spazio di topic a questo argomento perché vorrei parlarne tutti i giorni per far sì che possa cambiare qualche cosa la sensibilizzazione ma ripeto non tanto a quei ragazzini che magari la televisione non la guarderanno mai perché sono ammorbati dai social e guardano altre cose lo dico ai genitori che devono monitorare sui propri figli non lasciarli liberi di fare quello che vogliono trasgredendo soprattutto le leggi ecco mi piace sottolineare la presa di posizione per esempio della parlamentare regionale del partito democratico Ersilia Saverino che ha lanciato il problema in seno all'Ars e ha fatto un'interpellanza affinché si possa porre rimedio ci vogliono uomini e mezzi uomini e mezzi e controllo capillare del territorio non puoi andare in una villa, in un parco in qualsiasi posto di Catania o della Sicilia in generale questo non è un solo luogo un problema catanese accade anche a Palermo accade anche in altre piccole città in centri abitati dove la violenza è molto giovane questa è la cosa che fa preoccupare ci sono ragazzi under 18 ragazzini che commettono crimini di ogni genere a parte che poi diventano anche personaggi che servono alla criminalità più alta quella che spaccia droga prende questi ragazzini e li trasforma in pusher insomma, allora bisogna cercare di darsi una mossa per il presidio del territorio quindi le forze dell'ordine che già fanno con tanto sacrificio presidiano il territorio polizia, carabinieri, vede di finanza insomma anche la polizia municipale la polizia dicevamo prima che ora bisognerà rimpinguarla ci sono tanti poliziotti che ormai hanno raggiunto un'età che non possono correre per strada dietro a un ragazzino quindi bisogna fare qualche cosa Catania ha bisogno di sicurezza e soprattutto ha bisogno di presenza dell'istituzione al di là di quelle che sono le telecamere quindi la videosorveglianza è fondamentale alla Villa Bellini come in altri luoghi ecco, non sottovalutiamo questo problema perché è un problema che può capitare a tutti chi ha dei figli non possiamo pensare che i nostri figli vadano a farsi un giro in bicicletta e vengano aggrediti dagli scalmanati quindi forza dell'ordine su strada, presente a monitorare e a circoscrivere questi piccoli delinquenti che devono essere ovviamente ripresi e quando serve anche puniti ecco, questo lo volevo dire anche perché ripeto a Catania in pochi mesi ennesimi episodi legati ai giovani che aggrediscono altri giovani siamo arrivati alla fine di questo spazio di approfondimento come sempre vi ringrazio per l'attenzione vi ricordo le coordinate per potermi scrivere scrivere alla redazione redazione chiocciolaspazionotizia.it e poi il nostro numero telefonico 379-224-2420 grazie e arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti